Fedez, doppio affondo alla Ferragni. Il post polemico e la battuta in radio, io buono come il pane, ma lei è celiaca, Fedez torna all'attacco dopo settimane, se non mesi, di silenzio. Il rapper milanese, ieri, è stato ospite della Zanzara su Radio 24, per parlare tra le altre cose del suo nuovo podcast. Ma dalla bocca del musicista sono uscite anche frecciatine pesanti rivolte all'ex, Chiara Ferragni, che al momento sarebbe impegnata in una relazione con Giovanni Tronchetti Provera, Fedez si è fatto scappare una battuta pungente, c'entrano le gomme Pirelli, dopo essere stato stuzzicato dal conduttore Cruciani. E oggi ha rincarato la dose con un post altrettanto velenoso condiviso nelle sue storie Instagram. Vediamo qui sotto tutti i particolari.Fedez, la frecciata a Ferragni e il post a veleno. Torna a farsi intervistare e torna a sollevare, inevitabilmente, un gran polverone, Fedez, per mesi impegnato in avventure discutibili dopo la fine della relazione con Chiara Ferragni, è stato ospite del programma La Zanzara su Radio 24. Il rapper ha iniziato col piede giusto, parlando della nascita del suo nuovo progetto, il Pulp Podcast, e del primo ospite speciale che ha invitato. Si tratta di Sabrina Marchetti, divulgatrice web affetta da sindrome di Tourette con coprolalia. Abbiamo dovuto vimpare decine di bestemmie, ha spiegato Federico, ma l'argomento è molto serio. Con noi c'era uno dei più grandi esperti di questa patologia, un medico del San Raffaele. Ben presto, però, complici le domande tendeziose di Cruciani, Fedez è finito a lanciare qualche frecciatina all'indirizzo dell'ex. Siccome la sede di Radio 24 è di fronte al Palazzo Pirelli, e secondo gli ultimi gossip a Ferragni si starebbe frequentando con l'erede di quella casa, Cruciani ha chiesto, ti fa venire in mente qualcosa? Che effetto ti fa essere passato davanti a questo palazzo? E la risposta di Federico Lucia è stata secca, con un tocco di ironia, spero mi arrivino delle gomme a Natale, un cadeau. Poi l'intervista si è spostata su altri temi, come il rapporto di Fedez con l'Ultras del Milan Luca Lucci, o il tema spinoso del nuovo codice della strada voluto da Salvini, è una cagata, ha detto Fedez, non ha senso, ma l'affondo più duro è rimasto comunque quello contro l'ex moglie. E tanto per rigirare ancora il coltello nella piaga, Fedez oggi ha aggiunto un'altra bordata, probabilmente, sempre rivolta a Chiara Ferragni. Nelle sue storie Instagram, il musicista di Ruzzano ha postato una frase trovata scritta su un muro, io sono buono come il pane, ma lei è celiaca. Sembra il tipico verso di una canzone del rapper, e non ci vuole molto a capire a chi si è indirizzato. Chissà se Chiara avrà apprezzato il gioco di parole.